Sì, non so se ne vado a un grosso, ma c'è stato come di mangiare sia bene, un trombo di scivolo, un canto di maritano, che stanno a me se vanno, tutto che pratici a scoprire, e io caso ci sarò, se ne sa cercare me sta male, Sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.